Porsche ha vinto il campionato costruttori nella classe GTD Pro con il team clienti Faf Motorsport dei piloti Matt Campbell e Mathieu Giaminet, incoronati i nuovi campioni piloti. Questi i risultati dopo la finale del IMSA WeatherTech Sport Car Championship 2022. Il team clienti Porsche del Canada ha concluso la gara della Petit Le Mans a Road Atlanta al terzo posto e la Porsche 911 GT3R schierata da Wright Motorsport ha tagliato il traguardo al quarto posto nella categoria GTD. Per Faf Motorsport la tesa è finita subito dopo l'inizio della gara di 10 ore. Con la partenza di successo della Petit Le Mans 2022 il team aveva già raccolto abbastanza punti per consegnare tutte e tre i titoli della nuova classe GTD Pro a Porsche. La squadra canadese e i due piloti ufficiali Matt Campbell e Mathieu Giaminet. Questo è stato il secondo titolo consecutivo per il team con la distintiva ed estremamente popolare Porsche 911 GT3R vestita con la livrea da Boscaiolo. Nel 2021 Faf Motorsport aveva vinto la categoria GTD. Il duo di piloti di successo Porsche Works, Campbell e Giaminet, noto nella scena delle auto sportive nordamericane come Cam Jam, ha ricevuto rinforzi da Philippe Nasser per la gara di resistenza a Road Atlanta. Il brasiliano ha guidato bene nelle prime due ore e mezza e ha consegnato la 911 al suo compagno di squadra australiano che correva al sesto posto. Dopo l'ultimo giallo a tutto campo con circa 35 minuti dalla fine si è svolta una vincente lotta per la vittoria di classe. Dopo una gara ricca di azione l'auto numero 9 della Faf Motorsport ha conquistato il traguardo al quarto posto ma alla fine ha ereditato il terzo posto dopo che un rivale è stato penalizzato.